Uomini e donne, puntata di oggi, Diego contro tutti per Ida Uomini e donne, puntata di oggi, Marcello e Marika escono insieme e si avvicinano Mentre Diego inizia a frequentare Ida e scoppia la polemica con un'altra dama. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne Si è parlato a lungo di Marika e Marcello, che hanno trascorso del tempo insieme Nonostante alcuni dubbi ancora presenti da parte del Cavaliere, i due sono sempre più vicini Ecco che cosa è successo nella puntata di oggi. Al centro dell'attenzione poi c'è stato anche Diego Uomini e donne, puntata di oggi, nuova esterna tra Marika e Marcello. La puntata si apre con l'ingresso in studio di Marika e Marcello E si vede dal video che viene mostrato, i due vanno in esterna insieme ancora una volta In studio, Marika si dimostra entusiasta di come sta procedendo la conoscenza con il Cavaliere La ragazza spiega di sentirsi bene insieme a lui, di sentirsi addirittura protetta cosa che non le capita molto spesso Marika spiega che, nonostante tutto, Marcello non si fida ancora, ma è normale dopo tutto ciò che ha sentito, quindi lei non lo considera un problema Si passa a Marcello che conferma di essere molto sereno al fianco di Marika, ma di non essersi mai lasciato completamente andare proprio perché non si fida a sufficienza Marcello dice che pur non fidandosi sta bene con lei, ed è anche attratto fisicamente da Marika Il Cavaliere aggiunge che quando la tiene per mano sente delle belle sensazioni, ma per il momento non ha ancora provato a baciarla Interviene i dalla quale legge nelle parole di Marcello una frecciatina nei suoi confronti e si altera Prende la parola anche Armando, che ritiene che sia Marika sia Marcello siano dei falsi Incarnato attacca dicendo che la dama mente con tutti, dal momento che gli aveva detto che gli avrebbe dimostrato qualcosa e invece appena entrato ha visto nuovamente due sedie al centro dello studio Marika ribadisce la sua sincerità sottolineando che lei provava interesse per Armando sin da quando seguiva la trasmissione da casa Maria De Filippi tronca la discussione dicendo che ora bisogna concentrarsi sull'esterna Due decidono di continuare, ovviamente, a frequentarsi uomini e donne, puntata di oggi, Diego frequenta Che e Ida Tocca a Diego che si siede al centro dello studio Per quanto riguarda quest'ultima, però, le cose non sono andate per il verso giusto durante il primo appuntamento Il Cavaliere sta frequentando sia Ida sia Che Di conseguenza, il Cavaliere ha fatto in modo che non ce ne fosse un secondo, dicendo che aveva degli impegni e non poteva uscire con lei A questo punto scoppia un litigio con Che, perché quest'ultima ritiene che non sia questo il modo di trattare una donna Mandando un messaggio all'ultimo per annullare l'appuntamento La dama sottolinea che la comunicazione le è arrivata alle 7 di sera, e lei ignorava completamente che poi lui sarebbe uscito con Ida Tina attacca Che dicendo che fa troppe storie per un solo caffè che hanno preso insieme Anche se non ha niente contro di lei Diego spiega di trovarsi bene con Ida, e che lei si è emozionata quando lui le ha portato i cannoli E' mostrata all'esterna con Ciprian con cui c'è stato un bacio E' il momento di Andrea Nicole La cosa innervosisce Alessandro, mentre la tronista sottolinea che non ha mai visto falsità nell'altro corteggiatore Nicole spiega che Ciprian si è aperto molto, parlando anche del padre Rivela di non aver ancora parlato del bacio alla madre perché si vergogna a parlare con lei di questo Finisce così la puntata di oggi Voi che cosa ne pensate? Credete che tra Marika e Marcello nascerà una relazione stabile oppure tutto finirà così? A voi i commenti Grazie a tutti